Buongiorno e bentornati a Iulo l'arte per l'arte. Forse ricorderete che un anno fa circa la nostra trasmissione, il nostro canale, trattò un'argomentazione un po' particolare. In particolare trattammo quelle che sono state le dinastie di Faraoni all'epoca dell'Esodo passando attraverso una branca dell'archeologia che si chiama archeologia biblica. Ecco oggi partendo da una figura che è solo attestata sui Vangeli arriveremo a parlare di una costruzione, una fortezza possiamo dire pressoché inespugnabile o almeno che nacque per essere assolutamente inespugnabile e le caratteristiche le aveva che è Masada. Partiremo cioè dalla figura di Barabba. Questo personaggio, come vi dicevo prima, è stato presente esclusivamente sui Vangeli. Pare che fosse del partito degli Zeloti, un ebreo del partito politico degli Zeloti, che erano in qualche modo ritenuti dai Romani alla stregua di terroristi. Anche perché degli Zeloti facevano parte anche i Sicari che erano veramente una branca che creava paura, creava tensione e terrore fra quegli ebrei che avevano deciso di sposare la causa romana. Furono tanti gli eventi che portarono a far sì che nel tempo avvenisse una tremenda rivolta tra il 66 e il 70 d.C., all'epoca dell'impero di Nerone, proprio in Gerusalemme, fino a giungere attraverso il generale prima Vespasiano, generale di grande valore, che poi diventerà anche imperatore, quello del Colosseo per intenderci, mandato da Nerone a sedare questa rivolta e conclusasi poi in maniera abbastanza cruenta con il figlio Tito, figlio di Vespasiano, che diventerà poi imperatore tra il 79 e l'81 d.C., dopo il padre, dinastia dei Flavi, con l'incendio e la devastazione del Tempio di Gerusalemme. Fin dal tempo di Pompeo Gerusalemme era stata prima resa una sorta di protettorato da parte dei romani e quindi vennero formate le province di Siria e Palestina e quindi diventarono province romane. Ma i rapporti erano abbastanza buoni anche al tempo del primo imperatore Augusto. Lo stesso Tiberio, ecco, cominciarono ad incrinarsi dopo una serie di eventi, tra cui ad esempio l'imperatore Caligola che nella sua follia, sappiamo, della storia di questo imperatore, chiese di costruire una grande statua proprio all'interno del Tempio di Gerusalemme, una sua grande statua e ovviamente gli ebrei che erano di religione monoteista non potevano accettare questa statua che voleva incarnare un imperatore che sotto le vesti quasi di un dio. E poi vi furono altri eventi e da lì avvennero queste rivolte. Ovviamente il partito degli zeloti del quale faceva parte Barabba e venivano ritenuti alla stregua di terroristi perché vi era questa branca di sicari che terrorizzavano quegli ebrei che stavano dalla parte di terrorista, anche provocando grossi crimini, approfittarono di questi fatti e vennero poi i rapporti un attimino tranquillizzati ma con questo fomentare continuo si arrivò poi a scontri piuttosto cruenti e le guerre giudaiche furono tre. Una questa tra il 66 e il 70, l'altra al tempo dell'imperatore Traiano e quindi del cugino Adriano. Ecco Barabba per i pochi racconti che ci restano sembra che venne poi arrestato anche dopo essere stato liberato, ricordiamo che venne messo in contraposizione con la figura di Cristo, si scelse di liberare Barabba da parte del popolo ebreo e crocifiggere Cristo ma nonostante questo venne poi ancora arrestato perché faceva parte di queste sommosse di cui vi parlavo e pare che venne gettato nella Genna che era diciamo il pozzo o la fossa comune dove vi stavano anche le brosi e cose di questo genere. Ecco, quindi a un certo punto questo personaggio scomparirà però rimasero gli zelotti, gli zelotti guidati tra l'altro da Elezar ben Air che era il loro comandante e proprio nel 66 circa un numero di un migliaio di loro si rifugiarono a Masada. Quindi la guerra andò avanti, arrivò come vi dicevo la distruzione, l'incendio del Tempio di Gerusalemme ma proprio lì rimasero gli ultimi che erano proprio circa 960 e quindi i romani si preoccuparono di espugnarli. Ma che cos'è Masada? Masada è una grande fortezza, vogliamo dire una rocca forte che si trova a circa 100 chilometri da Gerusalemme e e quindi in Israele assolutamente visitatissima da turisti che fece costruire, fece realizzare a un'altezza di oltre 400 metri sul livello del Mar Morto da parte del re Erode il Grande, quindi siamo tra il 31 e il 37 avanti Cristo. Lo scopo era proprio quello di avere un luogo dove nel caso di pericolo il re si rifugiasse ma era una immensa vastità che stava oltre 400 metri di altezza assolutamente inespugnabile con delle mura alte 5 metri, un'estensione di oltre un chilometro e mezzo, 30 torri e all'interno potevano vivere anche un migliaio ma forse anche più di persone. Lo stesso Erode la organizzò in maniera da poterci vivere sia come viveri come anche cisterne, cisterne che raccoglievano l'acqua piovana e poteva essere riutilizzata. Ecco, e poi addirittura la possibilità di scaldare nel seminterrato l'acqua per avere anche l'utilizzo come terme, quindi era proprio un luogo che poteva diventare anche un luogo di piacere nel momento in cui ci si trovava costretti a vivere. Per giungere alla fortezza di Masada vi erano ad allora in particolare due percorsi, cioè uno a ovest e uno a est. Uno a ovest era però in qualche modo impedito da una grande torre che aveva fatto costruire sempre Erode che controllava, controllava proprio chi arrivava, chi saliva, che veniva inevitabilmente soppresso e quindi non vi era modo proprio di salire. Vi era poi un altro percorso tuttora esistente che è il cosiddetto sentiero del serpente che se venisse osservato dall'alto, anche col satellite, vedremmo che in qualche modo si dirama proprio come un serpente in movimento, tra l'altro strettissimo, che permetteva solamente di appoggiare un piede da chi ci camminava e dai due lati vi erano due strapiombe. Quindi era assolutamente un luogo inespugnabile. Ancora oggi è stata aggiunta assolutamente una teleferica, cioè la possibilità di raggiungerla anche da parte dei turisti in maniera più tranquilla, ma per salirci in determinate ore e volersi fare questa salita di oltre 5,5 km, si salirebbe da questo sentiero del serpente. Quindi è assolutamente un luogo di grande fascino, soprattutto quando lo si guarda a determinate ore, come ad esempio l'albeggiare, infatti c'è questa tradizione da parte delle che sono le comitive turistiche di salire a una determinata ora dove il paesaggio è di un certo genere, per poterlo osservare, giungere a Masada in un'ora dove si vede proprio l'albeggiare del giorno. Ecco, i romani si accamparono a ovest dove c'era la possibilità, tra l'altro teniamo conto che questa decima legione che era una delle più importanti, vennero addirittura in qualche modo aggiunti 7-8 mila ausiliari, quindi erano numerosissimi i romani guidati da Lucio, Flavio Silva, si resero conto che da ovest non si riusciva più di tanto a farcela a salire. Quindi gli esploratori romani cominciarono a guardare, a cercare un modo di poter raggiungere comunque Masada e si resero conto che esisteva un picco che venne chiamato Bianca che raggiunto, questo diventava una sorta di altopiano, quindi si sarebbe potuto organizzare l'accampamento romano e da lì vi erano ancora oltre 130 metri di distanza per raggiungere Masada. Quindi salirono da quella parte, sistemarono l'accampamento su questo altopiano e poi fecero un lavoro incredibile. Lo sappiamo che i romani erano degli ingegneri assolutamente inimitabili e quindi con, portando tutta una serie di grandi pietre, di detriti, realizzarono una sorta di grande terrapieno che andava a colmare quasi completamente questo dislivello di 130 metri. Restavano circa ancora 20 metri che si sarebbero dovuti in qualche modo sormontare andando avanti a realizzare questa sorta di grande rampa. Ma giunti alla prima grande altezza decisero di ergere una grande torre, una torre chiaramente da sedio, che rivestirono totalmente in ferro per evitare che venisse bruciata dai nemici, venisse in qualche modo abbattuta anche se da lontano e da lì poterono vedere dall'alto Masada mentre gli altri si occupavano di colmare la differenza di questo terrapieno. Quindi cominciarono a lanciare di tutto da questa torre per poter permettere la fine della realizzazione di questa impresa di ingegneria che resta assolutamente nella storia. E finalmente raggiunsero, finalmente dico per i romani ovviamente, raggiunsero questo grande muro di recinzione dove però gli zelotti avevano costruito all'interno un altro strato di mura, un altro livello che era una sorta quasi di intercapedine che però rendeva abbastanza difficile anche da parte degli arrieti a sfondare questo muro. Quello che fu decisivo saranno proprio frecce incendiarie che verranno lanciate dalla e non solo no anche grandi insomma attraverso catapulte grandi blocchi incendiati in maniera da poter anche cannonare e quindi creare un enorme incendio e anche una grande confusione all'interno di Masada. A quel punto Elasar Benair e i suoi più fedelissimi presero una tremenda decisione. Vistosi ormai sconfitti per non consegnarsi ai romani, tenete conto che lì vi erano anche donne, bambini, era proprio una comunità vera e propria, decisero per un suicidio di massa. Quindi una volta che la decisione era stata presa ogni capofamiglia si occuperà di così sopprimere le mogli, i figli e l'ultima decina di persone che erano un po' coloro che avevano guidato questa sorta di sommossa e questo gruppo che si era serragliato presso questa fortezza fino a quel momento assolutamente inespugnabile si infilzarono e si uccisero tra di loro fino al comandante in capo che era proprio Elasar Benair. Ecco ci sono voci per le quali sembra che rimasero vive perché si nascosero cinque donne e due bambini, altre dicono solo due donne, ma quando i romani entrarono trovarono questo massacro. Il romano però forse lo ricorderete successivamente all'epoca di Traiano quando conquisterà la Dacia che chiese proprio di scolpire sulla colonna traiana anche la morte di Decevalo che era il re dei Daci perché si era ritenuta una morte fiera in quanto era stato cerchiato dai romani, scese da cavallo e si uccise, ma venne ritenuta in qualche modo assolutamente una morte in qualche modo di grande valore per la mentalità e il cittadino romano. Quindi anche questa di Masada venne considerata in tal senso e quindi il valore non fu semplicemente in quel momento dei romani ma anche degli zeloti, cioè i nemici che secondo la civiltà romana moriranno con assoluta dignità. Masada è un luogo di grande fascino che in qualche modo ci permette di ampliare il campo delle bellezze nel quale si occupa la storia dell'arte e la storia dell'archeologia, luogo visitatissimo che ha incantato chiunque abbia avuto la possibilità di vederlo. Io vi ringrazio molto per la vostra cortese attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo, l'arte per l'arte. Grazie da Marino Ferraris. Ciao